Fai una mod delle 20 bombs, già al lavoro La chiamiamo iKillGame Plumma Sam, me l'hai inviata Ti ho inviato gli skin su Instagram, stesso Nick Eh bro, ma non li posso far vedere da PC Ma come faccio a vederli? Me li devi inviare qua su PC, almeno li posso vedere Qua non c'è più l'insegna, se l'è mangiata Occhio la Epic banna pure per i suoi bug, no Regà non avete capito, i bug per cui si banna Cioè regà È come la cosa del fast farm Ragazzi, vi posso dire una cosa? Avete letto quando quel tizio di Epic Epic ha detto che considera il fast farming una cosa non fattibile Come il, come l'aveva chiamato? Come quello di andare con il carrello sotto tilted Ecco, se ci fate caso, lui non ha mai detto che è bannabile Il fast farming Quindi non È stato molto attento a non dire che è bannabile Non voglio ne incoraggiare la gente a farlo però Perché quello lì ha un loro difetto Sinceramente una meccanica come il fast farming Bannare per quella quando uno può soffrire di meccaniche come il double pump E ricordiamo che il double pump va a tagliare L'animazione Taglia l'animazione proprio Quello è un exploit molto più grande Quindi non vi preoccupate Se volete usarlo Usatelo senza problemi E fatemi meno bip mentali Fidatevi di me queste cose Fidatevi di me queste cose Cioè non Fateci caso che è stato veramente Quello di Epic Veramente è stato molto cauto a dire Che non bannavano Non bannavano per quella cosa Perché non poteva dirlo Non posso non bannare per una cosa del genere Che non bannare per una cosa Che non bannare per una cosa Ragazzi se lo vedete su Fortnite Italia Group Taggatemi Stavo proprio per se qualcuno l'ha già messo Volete un consiglio? Un trucchetto? Quando sparate con il Vampa O con il FAMAS Saltate Traduce l'ultimo video di Diffuse su YouTube Lo vediamo dopo questo game Alla prossima vittoria lo vediamo Prometto Per la gente che trolla i game È uscito il replay su Fortnite Taggami Sono curioso Lo sapevo che la gente lo metteva Cioè da un mese Quello schifo Ancora non l'hanno pacciato Magari l'ha tradito quello che gli ha venduto l'account Ho provato Ho provato Realme Royale Non mi è piaciuto niente Non lo so giocare Sai come sono state con le pubblicità? Ma io non prendo così tanti soldi Cioè Se le mettessi io La pubblicità prenderebbe molto più soldi Oh porco due Easy Ehi 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 Sì Eh c'è un bello Sì Sì Ah ragazzi ha sovratomato Guardate Avete visto? Sopratomato ora Sopratomato ora No Ripete 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 Sopratomato ora Ripete non entra un colpe Belloso hai pure tu Ripete giù ripete su Giù ci questo game Questo è un 200 IQ game ragazzi A presto A presto A presto A presto A presto